Immaginate di invitare qualcuno, magari la persona per la quale provate proprio quel tipo di interesse, a passare a trovarvi nel bar che per voi è un po' ritrovo fisso. Facciamo che dite, dai, sono lì sempre tal giorno, tale ora, se vieni ti offro una birra. Poi un giorno quella persona arriva davvero, e prima che possiate accorgervi di lui o di lei, vi vede o vi sente mentre con i vostri amici, in totale tranquillità, state facendo o dicendo qualcosa di cui già sapete che vi toccherà vergognarvi. E magari non perché sia così drammatica in sé, ma perché in quella circostanza rappresenta una chiara figura di M. La storielle è buona perché rappresenta benissimo, seppur banalmente, quello che potrebbe accadere se avete dei profili social aperti e addirittura li indicate esplicitamente nel curriculum, ma poi li utilizzate per pubblicare battute da bar, momenti davvero super informali o addirittura inopportuni. Quindi, consiglio numero 4. Mettete i link ai vostri account social nel CV soltanto se ne fate un uso professionale e se sono realmente utili a mostrare le vostre competenze e il vostro approccio. Altrimenti, meglio lasciar perdere, perché il rischio è quello di farvi sorprendere in un momento o in un modo in cui non siete presentabili. Grazie.